Alla vigilia del voto sul caso Scialabayeva si impegna a stare zitto per un po' visto che da tutte le parti lo criticano per il suo eccessivo presenzialismo. Prima del silenzio però Matteo Renzi sceglie di parlare e a lungo ieri sera ospite di Mentana a bersaglio mobile, l'occasione per rilanciare la sfida interna al suo partito soprattutto. Nessuna imboscata dei renziani oggi in senato però nessun distinguo per marcare la differenza Renzi. Si allinea alla proposta del segretario Epifani, nessuna sfiducia ma discussione su Alfano da approfondire. Non è lì insomma che il sindaco di Firenze punta anche se il caso rimane aperto. Non sono io a logorarlo, il governo si logora da solo liquida la questione sulle sue dichiarazioni bocciate come intempestive o più maliziosamente interessate. Il rapporto con Letta è ottimo, il premier sapeva del mio viaggio dalla Merkel a Berlino mi ha invitato la cancelliera alla ricostruzione di Renzi, confermata questa mattina da fonti del governo tedesco. Certo il giudizio sul governo non è positivo, non ce l'ho con Letta, non voglio fargli il controcanto ma sembra il governo del rinviare, non quello del fare la provocazione. Renzi ancor più severo sul ministro Alfano, se sapeva ha mentito, se non sapeva è peggio le sue parole ieri sera che hanno scatenato questa volta la feroce reazione del PDL. Una carognata contro il ministro Alfano, la replica di Brunetta. Renzi le cose più spigolose le dice in realtà parlando del PD. L'invito alla calma del capo dello Stato ai contendenti alla segreteria democratica, io ascolto Napolitano ma mi fa arrabbiare chi lo strumentalizza la puntura di Renzi, ai rivali interni del partito dove assicura vuole rimanere. Con un'altra classe dirigente però vinco se non ci sono loro l'abbordata, per questo per cambiare la rottamazione concetto archiviato conferma la corsa alla segreteria. Se ci sono le primarie aperte altrimenti niente da fare. Se corre per fare il segretario io non lo appoggio ma rimane il miglior candidato per Palazzo Chigi, meglio anche diletta il via libera di Massimo D'Alema che può anche essere interpretato come un mezzo sgambetto. A noi il partito, a te la guida del governo, proprio la ripartizione che Renzi non gradisce.